Bene cari amici, oggi vi andrò a spiegare cosa ho fatto nell'operazione oleandri. Ebbene qui sul lato destro possiamo notare come ci sono questi oleandri che arrivano a metà del marciapiede e in alcuni punti anche più. Ecco possiamo notare come questi oleandri non davano la possibilità alla gente di camminare sul marciapiede, anche magari chi va a giochi una mattina presto e quindi mi è sembrato opportuno andare a tagliare. Anche queste erbacce vabbè erano state fatte in precedenza per un dicespugliamento di all'incirca 14 ore sulla zona del nuovo San Paolo. Ecco così possiamo notare quanto sporcono sul marciapiede. E poi con l'uso del mio mitico tronchesino ho pagato 2,50 euro. Ecco qui tutto tagliato, tutto a pari. Quei ciespugli che sono per terra mi sono messo d'accordo con il neturbino che verrà lui a rimuoverli. Quando verrà a rimuoverli questi rami sarà tutto più fluibile, tutto più bello. Ecco possiamo notare già dal primo impatto come sarà tutto diverso. Ecco questa è la fine della strada però come dicevo in precedenza ne avevo già rimuossi prima. Bene cari amici, vi saluto a bambazzissimi. Ecco questa è la fine della strada per un'altra 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 strada per un